Buongiorno a tutti, mi chiamo Anna Castellaccio e sono un'ex studentessa del liceo Veronica Gambara ad indirizzo linguistico. Al momento frequento il terzo anno di lingue e letterature straniere per editoria e media digitali presso l'Università degli Studi di Verona. Oggi sono qui per parlare brevemente della mia esperienza presso il liceo Gambara. Mi sono iscritta al liceo linguistico nell'anno 2014, principalmente spinta da una forte passione per l'inglese, ma anche dalla curiosità di apprendere una lingua mai sconosciuta. Per questo motivo ho deciso di abbandonare il francese, che stavo già studiando alle scuole media, per dedicarmi allo spagnolo come seconda lingua e al tedesco come terza. Devo dire che prima di iscrivermi, dentro di me c'era il timore che potessi riscontrare grandi difficoltà rispetto a ragazzi con una base pregressa di spagnolo e tedesco, ma fortunatamente non è stato per niente così. Infatti i primi due anni di liceo sono stati dedicati a consolidare salde basi linguistiche partendo veramente da zero, in modo che tutti potessero arrivare a un buon livello linguistico equamente. Una cosa fondamentale che ho imparato nei primi anni di liceo è che una lingua straniera non va considerata come un mezzo di comunicazione fine a se stesso, bensì un mondo molto più ampio che comprende anche aspetti culturali che sono di vitale importanza. Questi aspetti sono stati poi approfonditi nelle ore di conversazione con professori madrelingua in modo da avere una visione a 360 gradi di usi, costumi e usanze di tutte le tre lingue straniere scelte. Questi aspetti culturali li ho poi visti in prima persona grazie alle diverse esperienze all'estero, come per esempio lo scambio culturale con gli studenti provenienti dal Belgio e lo sociolinguistico con diverse metà a disposizione in tutta Europa. Per quanto riguarda il liceo Veronica Gambera come ambiente, devo dire che mi sono trovata a mio agio sin dal primo momento e che il passaggio da scuole medie a scuole superiori non è stato difficile. Ovviamente è richiesto un livello di costanza e un livello di studio elevato, ma devo dire che tutti i miei sforzi sono stati riconosciuti e ripagati. Prendo questa occasione per ringraziare tutti i miei professori e in particolare le mie professoresse di lingua che porto sempre nel cuore e di ringraziare soprattutto il Gambara e questa magnifica esperienza che porterò sempre con me. Vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata a tutti!